Se non faccio una kill ogni 2 minuti il video finisce Bella ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore porto come vedete a schermo Accettate Da ora ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi quindi la sfida di oggi è se non faccio una kill ogni 2 minuti il video finisce Allora il timer partirà effettivamente da quando avrò fatto la prima kill Quindi appena faccio la prima kill partono i 120 secondi E se non faccio una kill entro quei 120 secondi il video finisce Ora io sono abbastanza preoccupato perché io già non vedo gente in realtà di odoridi Tra l'altro non gioco a Fortnite da un bel po' di tempo quindi la mia capacità di gioco è veramente bassa Cioè ragazzi io veramente non gioco credo da 10 giorni 10-12 giorni Perché sono stato un po' in vacanza in questo periodo Sono tornato a casa giusto per fare altri video e poi credo che tornerò in vacanza Però intanto noi siamo qui quindi vediamo come ce la caviamo insomma Sento già gente sopra e tengo un tizio dietro E ragazzi si parte Ok prima kill io metto il mio timer 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 ok Io ragazzi il timer lo metto sicuramente anche a schermo Un timer qualunque ma sta di fatto che Devo sbrigarmi perché la prima kill è andata per sbaglio praticamente Non doveva andare così Però teoricamente stanno in questa zona io dovrei avere la possibilità di fare diverse kill Perché tanti odio odoridi dai Ok dai non perdiamo tempo Buttiamoci questa raga Dovrà essere un game molto molto aggressive se voglio sperare di vincerlo Perché a vincere raga si può fa Io l'ho visto due minuti sono un tempo fattibile Il problema è che mi serve per esempio subito il rampino se lo voglio fa C'hai capito? Devo stare un attimo sull'attento Qua 46 secondi raga Credo che vi farò meno tagli possibili perché altrimenti dovrò fare un bordello col timer Vedo un po' che fare sinceramente ragazzuoli Mo decido un po' il problema è che qua non ci sta nessuno Dai 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 sta gente qua sta gente qua lo sappiamo tutti che sta gente qua Easy 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 dov'è 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 Ma stiamo scherzando dove siete? Oh è vero ragazzi che ansia no ma stiamo scherzando Dai nemici Ma ma c'ho 30 secondi poi finisce il tempo E dai sta qua sta qua Ok andato Si resetta il timer lo devo rifare lo devo rifare Ok pensavo che ci mi stesse arrivando del danno non so da dove Panichello Oh 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 questo che c'ha? Questo c'ha aveva la tram che non è solo la mia impressione Sicuramente non è solo la mia impressione Il fatto è che devo capire se è un nemico se è Jules che cos'è A me sembra Jules Solo che ci sono due nemici Ok Mamma mia Questo mi serve Io tra l'altro devo resettare il timer ragazzi Voi lo avrete sicuramente visto bene perché Io in editing lo posso resettare più facilmente Però mentre gioco capirete bene che la sfida non è così easy Lo tengo alle spalle Dai Ok Meglio che ci sta un po' di gente per ora Sinceramente questa cosa mi rincuora Allora Ho lasciato la mitraglietta non fa niente ragazzi Tanto Cioè voglio dire abbiamo una tram Però ho veramente Sprecato un bot Un bot di scudi utilissimi Un po' di tempo lo dovrei avere Ma sta un tipo qua ragazzi Devo fare velocemente Devo capire dove sta Perché ci sta Devo solo capire dove è andato No ragazzi Allora un minuto Ho un minuto per trovare un nemico E non so dove andare C'ho circa 50 secondi per buttare giusto camion Col nemico dentro Madonna Non volevo fare questa cosa Ho sbagliato Dai A parte che c'è ancora la scheda del bunker Raga pochissimi secondi Devo fare in fretta Ok Si è risettato il timer Non so a quanto sta ora Però sicuramente poco Ok Un attimo Devo approfittare di questo tempo Per lutare un attimo questo tipo Facciamo una cosa intelligente Questo tizio è scarso Allora utilizziamolo Sta costruendo Vabbè non è un problema Poi faccio ripartire il timer Anche a me Attualmente io non so A quanto stiamo Dai facciamo così Ok a posto Andato pure quello Non credo che mi interessino le pozzette Perché le troveremo nel bunker Lo troveremo anche di meglio Quindi non fa nulla Allora Dai Un'altra kill fatta Si può fare Non sto facendo tantissime cavolate Però Questo qui è abbastanza pericoloso Dai Mamma mia Che stavo facendo Attenzione che qua stavo a medikit Me lo prendo al volo Me lo faccio pure al volo Ok Poi devo prendere il bunker E devo subito scappare Ragazzi Che partita frenetica Veramente No 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 Perché Questa cosa Devo andarmene Non posso farlo Non posso farlo Sono one shot E sta finendo pure il tempo Top Cioè non sta finendo Ho ancora un altro minutino e venti Però Devo comunque muovermi Il tizio riesce a inseguirmi Con una destrezza incredibile Uh Mamma mia ragazzi Cavolo Dai affacciati Quella non è la sua coscia No si sta curando No Ragazzi Un'idea Aspettate Però non so quanto sia fattibile No io ho pochissimo tempo Devo pusharlo Ragazzi Credo che io debba pusharlo per forza Proviamo Perché io lo faccio La sfida viene persa Quindi facciamo Dai Ma niente Ma quello che succede Che non ho più tempo Forse ce la faccio Sapete Uh Ok risetto Una cosa risetto al volo Mamma mia Panico ragazzi No ma veramente State scherzando Questa cosa è troppo ansiogina Questa cosa è troppo ansiogina Io non ce la faccio Ma cioè Ma la domanda è che sto incontrando Tutti i scarsoni Non c'è uno che sa giocare Non c'è uno che sa giocare bene Ragazzi Mamma mia Allora dobbiamo fare una cosa veloce Perché sento gente Quindi io direi Di andarci velocemente A prendere sto bunker Una volta per tutte Poi ce ne andiamo E sediamo Ok ragazzi Tengo un minuto e venti Un minuto e venti E qua sta succedendo Però troppa roba Sta troppo casino in giro Dai 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 Vediamo che mi da Jug Ok Sto sprecando però troppo tempo Per i miei gusti Ragazzi mi sa Dai Jug Perfetto Devo cominciare ad avviarmi Dai Non posso perdere altro tempo Mi cura il volo E prendo le jug Qua è quel che succede ragazzi Cavolo dai Madonna Secondo me l'ho dato troppo Nel bunker Ho fatto la stupidata Mo' perdo questo motivo Sicuro A meno che non ci sta Un nemico di fianco a me Veramente non credo di farcela Ma siete seri Sono tre bot in giro Ma siete seri Ma siete seriamente seri Ho veramente Dei bot di fianco Così tanti bot Cioè sono tipo due bot Ma Ma che l'abbia trovato Ma perché Ma che bello Soprattutto Oltre che Perché Infatti che ho tutte le armi scariche Vabbè ragazzi Cioè c'è andata bene Bella Bella per i bot Oh Oh Ra 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 Sto scherzando Dai mi fai fare brutta figura con i fan Ok Ce l'ho Sta un altro là Io non sto più vedendo il timer Perché tanto c'è troppa gente in giro Cioè capito Li elimino tutti io Ok Direi che ora possiamo rimetterlo Perfetto Regà Comunque non tenete conto Di quando io parlo del timer Perché io vi ripeto Mi riferisco al mio timer manuale Ripeto ancora un'altra volta Altrimenti la gente si può confondere Ok Qua abbiamo un bel po' di loot E vedo anche roba leggendaria Anzi Come che cavolo si chiama Mitica Altro che leggendaria Lascio questo Ho visto bene Sì ho visto molto bene Perfetto Ma mi servirebbe Ancora un altro tipo Io in giro l'avevo sentito A dirla tutta Mi pare pure indietro Stava dentro Sbaglio E ora abbiamo un problema Ho minuto e venti Per trovare un'altra persona Speriamo di farcela Però sentivo degli spari Da sta zona Magari se Mi avvicino Sentivo robe da qui Però non capisco Se è una macchina Se Su granate Non lo sto capendo Sincero Sì E' gente E' gente E' gente Ok A posto Resetto Mamma mia ragazzi Che panico Continuiamo Non pedatiamoci d'animo Non fermiamoci ora Dovrebbe stare Altra gente Anche qui Loot dai No Cavolo però Ho minuto e venti Calmi tutti Che qua mi devo sbrigare Dovrebbe starci gente Lì probabilmente Sono sulla zip Dai Dai Altro Resetto Dai Ok Questo c'è qualcosa di interessante Una jump Però vabbè Io c'ho il rampino Non è che Vabbè Me la tengo Dai Nel caso voglio levare il rampino Cosa che sarebbe in realtà molto stupida Meglio che lo tengo Allora Eh Eh Sta un tizio là Bam 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 Doppio nemico che lo sta sparando Però la kill serve a me Fratelli Mi spiace Non ti permettere di eliminarlo Perché veramente sbrocco Ok Devo risettare Stavo più a piazzare la jump Per sbaglio Questo aveva qualcosa di interessante Non credo Sinceramente Mio che non avesse delle splash Infatti Non mi interessa No Doppio nemico L'ho preso male L'ho preso molto male Ok Stai calmi tutti Vabbè Sono bot Sono bot Mamma mia Raga Meno male che sto acchiappando Tutta una partita di bot Veramente Non potete capire quanto sono contento Una volta tanto che mi serve Una partita piena di bot Sono felice Dai Dai Ok Mamma mia Non sto capendo niente ragazzi Il mio cervello È fondamentalmente distrutto Cioè Non sto più ricependo le informazioni Si muove per inerzia Davvero Andiamo via Infatti che non sto registrando Mamma mia No ragazzi Mi sento male Mi sto a sentire male Quando ho detto Non ho registrato Mi è venuto un coccolone Perché ragazzi Io ste stupidate Le faccio spesso Che inizio a registrare Poi faccio Ma ho inviato la registrazione Mamma mia Con una partita così Poi no Raga Però mi serve gente Non fate gli infami Non fate gli infami ora No non ce la faccio No raga Finisce qua Finisce qua Ve lo dico È fatta È andata No Sì Ok Resetto Al volo Come se niente fosse successo Questo non è un bot Il tracking bro Scusami Ok Non mi interessa delle kill Non mi interessa più di niente Devo solo continuare a farne La cosa più importante è quella Posso addirittura fare la 20 bombs Di bot è semplice Me ne rendo conto Però Rimane una 20 bombs Ah sta sotto Ok Un altro bot Non devo fermarmi Ok Resetto il tempo Ragazzi Mancano due kill Mancano due kill E il game è fatto Io non so Veramente Cioè E sta settimane Regà E sta settimane Mamma mia Che panichello Che panichello E dai Eh ma come vado a trovare Ma serio L'ho capito dov'era Ma sono un genio Più o meno Manca l'ultimo Manca l'ultimo L'ho visto Regà l'ho visto Regà l'ho visto Mi servono tutti i carichi Ormai non lo resetto più È fatta È andata Tra Non è un bot Non è un bot Non è un bot È un player normale Devo spaventarlo Let's go baby Che ho combinato Regà Solo i bot Devo ammetterlo Però È stato Un video Incredibile Che ho combinato 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 Grazie per la visione!